Giovani agricoltori sotto i riflettori perché lanciano l'iniziativa ai prodotti del Sud Tirolo sono il nostro credo. Distribuite 10.000 borse contenenti prodotti tipici per incentivare le famiglie all'acquisto del made in Sud Tirol. Vediamo. Il patriottismo dei consumi è stato lanciato dalla Bauerne Jugend, l'unione dei giovani agricoltori sud tirolesi. Il cui slogan ad ora in avanti sarà i prodotti del Sud Tirolo sono il nostro credo. In due giornate, il 20 e 21 febbraio, in tutta la provincia verranno distribuite 10.000 borse di stoffa contenenti una confezione di latte, 4 mele o un chilo di patate, il tutto rigorosamente made in Sud Tirol, ad altre tante famiglie altoatesine. Nessun territorio delle dimensioni del Sud Tirolo dispone di tante varietà di prodotti provenienti dall'estero perché considerati più economici. Con questa iniziativa, è stato ribadito in conferenza stampa, desideriamo invitare i consumatori a scegliere consapevolmente i prodotti agricoli locali spiegandone le implicazioni. I nostri prodotti sud tirolesi hanno una alta qualità e anche il 90% dei sud tirolesi sono convinti che i prodotti hanno una alta qualità. Abbiamo fatto un sondaggio, per noi è importante che questi nostri prodotti vengono anche consumati dalla nostra gente. L'acquisto di prodotti tipici, è stata la conclusione, dispiega effetti positivi sull'intero ciclo economico. Il contadino investe il ricavato della vendita dei propri prodotti nel suo podere e di questo beneficiano sia l'economia locale che il benessere generale. Grazie.